L'unica incognita è il maltempo, ma tutti si augurano che non rovini la grande festa della Notte Bianca. Tantissime iniziative per l'evento di stasera che è stato ripreso da qualche anno grazie al Comune, a Marcello Di Giacomo e altre associazioni locali. Una serata per i giovani e non solo. Si parte con una caccia a tesoro messa in piedi da mamme per l'Aquila e Meg dal Parco del Castello sino alla Villa. Sui vari palchi, a Piazza Regina Margherita, alla Villa e al Castello, si alterneranno vari artisti, musiche e spettacoli. Dalle 22 il Clou con Rudi Zerbi D'Amici e altri artisti nelle vie del centro. Alla Villa ci saranno artisti amatissimi dai più giovani come Cricka, Luigi Strangis, Matteo Romano, Valerio Mazzei, Caglia Rodriguez e Cioffi. Gli amanti della dance anni 80 e 90 si ritroveranno invece al Parco del Castello, a Piazza Regina Margherita. Il coreografo Gioidi Stefano farà ballare tutti con le hit del momento. Non è tutto qui perché ci saranno varie aperture straordinarie. Il Munda consentirà le visite al Mammut dalle 20 alle 23, il Maxi dalle 18 a mezzanotte sarà aperto, il Polo Museale dell'Università sarà aperto sino a mezzanotte e dalle 18 in poi sarà possibile ammirare le ceramiche di San Domenico nell'ex convento. La Fondazione De Marchis aprirà al pubblico Palazzo K. Cappelli, sarà possibile entrare anche nell'oratorio dei Nardis sino a mezzanotte. Per consentire parcheggi sicuri e una buona mobilità dal momento che il centro sarà blindato, la navetta gratuita che collega il Terminal al Centro Storico prolungherà il suo orario sino alle 2.45, con corse ogni 15 minuti. Le iniziative sono davvero tantissime per tutti i gusti e si incrociano le dita per il meteo, anche perché la notte bianca degli eventi sarà accompagnata dall'apertura dei negozi in centro storico. Tantissime attività commerciali per questa occasione daranno vita a una campagna di sconti importante per incentivare lo shopping durante la serata.